Ambientalisti e famiglie si erano recati al Parco Miralfiore di Pesaro domenica scorsa per firmare una petizione e chiedere al comune più rispetto, maggior sicurezza e un comitato di gestione per la manutenzione. I promotori dell'iniziativa lamentavano anche il taglio di piante siepi, interventi definiti anomali e contrari al valore della biodiversità del parco. Oggi a replicare è l'assessore al verde pubblico Enzo Belloni. Io mi sento di dire che è un parco in movimento quindi è positiva come azione, quindi c'è grande interesse da parte della comunità rispetto a questi 23 ettari nel cuore della città. È un parco urbano, non è una foresta protetta innanzitutto e chi amministra la città si deve prendere delle responsabilità. In questo momento la priorità è la sicurezza, stiamo facendo un grande lavoro assieme a tutte le forze dell'ordine e anche questa mattina vedete che sono impegnate qui con i cani. Quindi la prima cosa che ci preme è mettere in sicurezza questo luogo, un luogo dove non vogliamo nasconderci dietro un dito che è occupato in maniera abusiva da certe persone una piccola parte di questo parco. Noi dobbiamo lavorare per renderlo tutto fruibile alla comunità. Stiamo ripulendo il sottobosco, ha poi precisato Belloni, e abbiamo tutte le autorizzazioni del caso. Gli interventi vengono eseguiti in sinergia con le forze dell'ordine e anche i carabinieri forestali hanno fatto più sopralluoghi. Quindi stiamo facendo delle azioni legittime che magari qualcuno potrebbe anche non condividere, ma questo non è che la pensiamo tutti allo stesso modo. Non è che mangiamo tutti la carne, tutti il pesce o solo l'altipasto. Ognuno ha le sue priorità. Io rispetto l'opinione di tutti ovviamente, specialmente chi lo fa con il cuore. Perché io penso che come tutte le situazioni c'è sempre chi vuole strumentalizzare il momento e il contesto. Magari, che ne so, tra qualche mese vedremo qualcuno di più facinorosi che si ritaglierà un ruolo in qualche consiglio di amministrazione, da qualche parte, non lo so. Ripeto, io credo nella buona fede di alcuni, fatti per primo, se vogliamo fare i nomi, visto che qualcuno ha fatto i nomi. Però bisogna in qualche modo capire che questo parco è di tutti. La nostra operazione è un'operazione che non è gratuita, quindi non ci divertiamo né a fare i rispetti né a spendere i soldi. Ci divertiamo, insomma. Vogliamo far sì che questo sia liberato in qualche modo. Infatti, ha proseguito l'assessore, cerchiamo di organizzare nel parco quanti più eventi possibili. Non a caso, domenica prossima, si terrà il primo mercatino dedicato ai bambini che potranno esporre e vendere i giochi che non utilizzano più. Un'iniziativa che vorremmo ripetere tutti i mesi. Inoltre, ha concluso, ci siamo attivati con l'Istituto Agrario Cecchi per condividere ulteriori progetti. Per riuscire a condividere un progetto. Abbiamo fatto un sopralluogo con il dirigente, abbiamo fatto un sopralluogo con gli insegnanti. Ieri è venuto qua anche il funzionario della regione che autorizza gli interventi sul parco e devo dire che non c'è stato rilevato alcunché. Quindi continuiamo nel nostro lavoro, siamo disposti a chiacchierare con tutti, però senza pregiudizi, né da una parte né dall'altra.